Bene ragazzi, benvenuti in questo video, e poi capisco per chi è agente, non lo so, che dice che, eh ma siccome io parlo piano per tutto il video, almeno lì l'intro la faccio alta, capisco perché dice, oddio sono zompato in piedi, sono zompato in piedi, vabbè, sono zompato seduto, vabbè comunque siamo tornati qui con un pack opening su utcoin bets, bets, ancora mi dovrei piacere, bets, e prima di iniziare con il pack opening, io ora in realtà, perché come ben sapendo, come ben sapete, domenica sera, c'è il derby, il mio derby, come sempre, per chi non conoscesse questo sito, ormai facciamo un pack opening ogni tanto, è quello lì dove potete pacchettare, potete anche scommettere con i crediti, e vincere altri crediti su fifa, ah perché c'è il derby, esatto, per me questo vince il milan, sta più in forma dell'inter, cazzo, fida, sta più in forma il milan ultimamente, vince l'inter, va bene vedremo, 50 mila sull'inter, olè, vai, fatto, eccola qua, meno 50 mila, e, degresso si fa la cosa, ora andiamo con i pacchetti, abbiamo 900 mila disponibili, più alti 900 mila pickpots, però comunque, apriremo quelli che è 6-4, tutti e 9, si prendiamo, no però se buggano, eh occhio, no, allora, tipo, se è bugato mezzo, quindi ce l'hai solo 4, ma tanto, cioè, non ce l'ha contati 9, quindi scialla, li mettiamo dopo, altri 5, e vado io, vai, Attenzione Lennon, Xhaka Una merda Shaka Bum, Xhaka, Laka, Laka Schmelzer, Uce E Mayer Mi raccomando, eh Vedi quello che puoi fare Guarda Fosse per me Messi, Ronaldo Attenzione Wave 26 Perisic E Murillo E Murillo Tutti in l'Inter Tolisso Che cazzo è Tolisso Tolisso Non ho idea Non me lo per cazzo Perisic e Murillo Vabbè, dai Totale 52k Vabbè, ma tanto non lo sappiamo No, partiamo sempre male Poi dopo All'ultimo pacchetto Apriamo Un milione e passa Quindi Posso così Scialla Vai, zi Oh, mi raccomando Quello che puoi fare Mi raccomando Dai, attenzione Ecco, è lui Un if Giordi Alba 153 mila Riperì Alessandrini Inzolzi Valore totale 224 mila Fattimo meglio Queste botte Allora, fammi fare un calcolo Abbiamo 800 mila E abbiamo aperto Tre pacchetti Quindi facciamo 100k sopra L'ham va bene È male, dai Vabbè Poteva andare peggio Cioè, 77 mila Comunque, dai Va bene, va bene Tutto grazie a vita Va bene Dai, su Brom Ci possono far credere così Che prima c'è stanno gli if E poi è Neismith E Kuzmin Cazzo è Kuzmin Vai, questo è quello Ecco, lui è uno forte Lui è uno forte Che cazzo Però c'è Isco E Musacchio Cioè, Cavani Cioè, regà Cavani 2002 Costa Che pur Dio Mi faccio subito Una cosa Cazzo Attenzione Ma tanto Dopo due pacchetti di merda Ce n'è sempre uno forte È così Questo sito è così Guarda, guarda Stai Lewandowski Starridge Noi siamo forti e troveremo Ronaldo Eccolo qua Eccolo qua C'è uno che viene spesso Uno che è Kuzmin Benteke Aia Benteke L'abbiamo trovato lui Benteke Non vale un cazzo Chi abbiamo trovato? Benteke E? Marchisio Victor Ruiz Fischer Abbiamo trovato Danilo Se non riuscire a trovare Giulio E c'è l'ultimo Poi ce ne abbiamo Altri cinque Minimo Daie Daie Perché Perché C'ha gli occhiali Da Glyph Ma regà Ma che Ma perché Perché Ma perché Ma perché Mi giuro che non ce l'abbiamo messi noi Ce stanno veramente Oh mio Dio Ma che me trolla Perché ieri ha segnato Two goal C'è Vabbè Aiezi Aiezi Facciela Vedi Facciela Gaa Ma vaffanculo Vai Vai così Fai così Si Attenzione Oh mio Dio Oh mio Alciala qui Kono Plianka Kalu Mangala Olè Oddio Pensavo che era il Sharawi Leonardo Ghilas Mzonzi Januzovic Il Mula Tarasov Tarasov Viglorente Omo che lo deve di no dice No ha detto ma io ho detto no Ah io ho detto no Si è un super femmine allora 34 Vabbè oggi il Silo ha deciso così che ci ricarica tipo strani Noi ne mettiamo tre e ce ne carica due Sempre di meno Comunque questo Vai Questo è quello Questo è quello che Farà schifo Si Attenzione Oh mio Dio Ben Arfa e Mark Bartra Perché volevo far rima E Courtois E Courtois Ma c'è pure Carvajal Con un C 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 Attenzione Attenzione Un pacchetto finalmente buono Io lo voglio comprare un altro Oh subito Incredibile Oh mio Dio Oh mio Dio Questi porti che c'è danno i giocatoroni Eccoli 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 La Porte Shakiri Inangolano William Topal Oh mio Dio Oscar Sidibe Xandao Lukaku Douglas Payet Milik Cavani Jesus Gammert E Martial Per completare un pacchetto di merda Esatto Guardate io non ne possiamo prendere due No vabbè dai ma serio 199.000 Vabbè dai con questo Cazzo fa un K Ne apriamo un altro Attenzione Attenzione Ribery Morazzo Ho troppo rire Ma anche i gocari Jonathan Soriano Per un pacchetto Medio Adesso dobbiamo fare almeno 30 K Quindi penso di sì Ne apriamo ancora un altro dopo Pensi di sì Sei convinto di sta cosa Vabbè non so fa 26 K Sei convinto Già non carica Vai Oh 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 che cazzo voi 31.000 Hulk Che merda Giordi Alba Granero Klein Bia Biani Quando Jesus Musacchio E Alla rega Questa potrebbe essere la prima volta che ci va male Però di solito L'ultimo pacchetto Troviamo sempre bella roba Bella roba Questo dovrebbe essere quello buono Vabbè bella preparazione questa Perché? No Aspetta Bello Bella preparazione Servito molto Oh Ci abbiamo avuto quello fino a mo Per una volta Ci sta Però Nel senso comunque Un milioncino Nonostante Cioè Siamo partiti da un milione Da una prima volta Un milione dove siamo scaricati Quindi Scialla va bene Comunque abbiamo sempre un milione per Xbox 900.000 per Xbox Quindi La prossima volta Se vogliamo ritentare la fortuna Voi ce lo scrivete qua sotto Lasciamo 5000 like E La prossima volta Rifacciamo Un altro pacco opening di questo genere Con quel leaf L'abbiamo trovato Abbastanza Direi pure troppi Perciò Da Granas È tutto Ricordate che in descrizione c'è questo sito Se volete comprare Con il nostro codice C'è lo sconto Amici Dei Granas Dai Perciò Bella Ciao